buongiorno a tutti allora filpettina da brr che freddo che fa perché dobbiamo proseguire con i mondiali di sci a cortina e dopo aver parlato del parallelo femminile andiamo a vedere come è andato il parallelo maschile subito battaglia per raggiungere le otto posizioni valide per partecipare alla fase finale dagli ottavi in poi appunto dei 26 atleti che sono messi nella pista blu e i 26 atleti che sono messi nella pista rossa 8 da una parte passano 8 dall'altra passano come è successo anche per le ragazze quindi 52 atleti totali vengono divisi in due gruppi di 26 fanno delle discese una discesa su 26 sulla pista rossa 26 sulla pista blu gli otto che hanno il tempo più basso passano al turno e poi hanno in base al tempo il numero di testa di serie come se fosse nel tennis no quindi vediamo un po cosa come è andata perché dal gruppo blu oltre al nostro franzoni che non termina in me la sua gara tra l'altro non la terminano in in 13 compreso lui quindi 13 su 26 non terminano la gara le eliminazioni sono abbastanza tra virgolette surprise party per leitinger nono e filp decimo oltre ad adam zampa adam zampa undicesimo pista blu per quanto riguarda il gruppo rosso la pista rossa chiamateli come volete oltre ai nostri borsotti tredicesimo e tonetto tonetti detto tonno quattordicesimo gli eliminati eccellenti sono murisier nono e sfars decimo comunque i qualificati dalla pista rossa vedono meiard al primo posto smid è secondo crani è che terzo tors è quarto oga ogan 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 e quinto de aliprandini e sesto zupcic è settimo e roengrin roengrin penso di averlo pronunciato giusto e svedese roengrin quindi non so se si pronuncia rongren roengrin comunque c'è lui all'ottavo posto per quanto riguarda la pista blu i qualificati della pista blu al primo posto abbiamo strain al secondo luiz luiz non luiz luiz al terzo odermatt al quarto linus trasse al quinto febbre al sesto radamus al settimo adalin e all'ottavo kuznetsov kuznetsov quindi andiamo a vedere come sono andati gli ottavi del parallelo marschile la prima sfida kuznetsov meiard ha vinto meiard vincere abbastanza vigevolmente tutte e due le manche nella seconda ogan nel partire si è lussato una spalla e quindi praticamente la prima manche non l'ha fatta e la seconda non si è neanche presentato e strasser si è allenato diciamo nella prima e nella seconda manche perché praticamente la prima lui è sceso ma l'altro si è fatto male subito lussazione alla spalla e ciao ciao anche il resto del mondiale quindi non temo che non potrà partecipare più a nessun'altra gara e anche di coppa del mondo temo non solo del mondiale come cavolo dal tonne partono secchi quindi magari parti un attimo prima che si apre il secondo c'è una barriera no c'è la barriera poi va giù e quando senti il bip tu dai la botta e la barriera va giù va giù in automatico però se la barriera è bloccata e tu parti prima senti il contraccolpo e magari tac ti spunta una spalla dal braccio nella sfida tra radamus e kraniek è radamus ad avere la meglio su kraniek alla fine sfida 1 a 1 alla fine radamus che la passa zubcic elimina luiz anche lì sfida la prima la vinta luiz e poi zubcic ha recuperato anzi addirittura si esatto poi adaline smith uguale 1 a 1 ma alla fine alla meglio smith dea riprendini batte o der ma dopo aver perso la prima manche riesce a scusate a vincere per un solo centesimino sono scelte per un centesimo sentato davanti anche fevere contoste fa 1 a 1 ma alla fine alla meglio nella sfida nella seconda sfida riesce a stare davanti mentre invece strain con groengrin vince facilmente tutte e due le manche quando dico vince facilmente vuol dire che la prima manche l'hai vinta nella seconda non è che contieni la ma vinci con ancora più con un miglior tempo con un tempo ancora più più importante ecco per intenderlo quindi ho 30 centesimi di vantaggio arrivo giù alla fine ne ho 31 quindi ho fatto anche nella seconda manche anche se sono sulla pista stronza tra virgolette meglio di te viceversa se vinco la prima manche poi nella seconda finisco dietro però io la prima l'ho vinta quindi la prima l'ho vinta la seconda l'ho persa perché l'altro mi è stato davanti quindi ha fatto un tempo inferiore al mio proprio perché vi spiegavo che si fa la prima manche alla parte chi vince nella seconda parte un attimo prima e l'altro parte quei centesimini dopo che ha perso nella prima manche ecco questo è il parallelo veniamo ai quarti di finale anche qui molto equilibrati meijar batte strasser anche qui perde la prima manche vince la seconda radamus baster batte zucic dea liprandini purtroppo perde la prima manche ma poi dopo non riesce a recuperare tutto e perde per soli sei centesimi contro smith però ha fatto una bella gara bisogna dirlo e fevre batte strain anche lui in rimonta dopo aver perso la prima manche vince la seconda veniamo alle semifinali che vedono meijar contro zucic e smith contro fevre anche qui equilibrio manche vinta da meijar la prima poi zucic nella seconda gli sta davanti anche se è partito con qualche centesimino indietro 13 se non ricordo male viceversa fevre stessa cosa con smith perde la prima manche vince la seconda standogli davanti quindi la finalissima vedrà fevre contro zucic e meijar contro smith stranamente le due semi le due finali terzo quarto posto e primo secondo posto vedono meijar battere smith in tutte e due le manche perché nella seconda smith in quella che avrebbe dovuto cercare di recuperare sbaglia subito e saluta la gara mentre nell'altra fevre ha la meglio su zucic anche lì perché zucic commette l'errorino di troppo quindi alla fine il francese fevre vince la medaglia d'oro zucic è d'argento meijar è di bronzo e smith si becca la medaglia di legno quindi la classifica finale del parallelo maschile dei mondiali di cortina vede fevre medaglia d'oro zucic medaglia d'argento meijar medaglia di bronzo smith è quarto il nostro dell'iprandini alla fine della fiera un buon quinto posto bisogna fargli lo stesso i complimenti anche perché è stato l'unico italiano a qualificarsi gli altri e mei tonetti borsotti e franzoni hanno detto ma ciao non ci qualifichiamo srena è sesto svinustrasser è settimo radamus è ottavo luiz è nono e kranjec è decimo detto questo ragazzoli nella giornata di oggi mercoledì si è disputato invece il parallelo a squadre ve ne parlerò probabilmente nella giornata di giovedì perché adesso ormai è tardi ora che questo video si caricherà sono già le nove e mezza penso adesso sono le sette più o meno di sera si sta caricando il video del parallelo femminile si deve caricare questo poi devo fare il video della champions sulle due partite di champions il video dell'esito delle schedine bollettine del gigione che già vi anticipo chiedo venia perché temo che saranno andate di m però spero almeno queste due partite stasera di prenderle e quindi poi non mi sembra il caso di fare ulteriori video perché sennò poi vi appesantisco troppo e qualcuno mi ha detto gigi fai troppi video e ragazzi devo andare dietro alle notizie che mi interessano se c'è lo sci non posso continuare visto che quest'anno finalmente lo sci riesco a stare abbastanza dietro alle gare e al massimo le racconto con due tre giorni di ritardo non con tre settimane di ritardo un mese di ritardo quando magari è già finito anche il mondiale di sci finalmente cerco di stargli dietro se ci sono le le schedine bollettine da fare cerco di stargli dietro e quindi spesso e volentieri capita il giorno in cui vi faccio tanti video poi c'è il giorno in cui magari vi faccio le call news le cose tranquille ne faccio due o tre dipende sempre da come siamo messi il venerdì è il giorno che devo fare sette perché ci sono schedine bollettine marcatori tiratori eccetera eccetera quindi devo darci dentro a più non posso giovedì devo farvi gli anticipi del campionato anche schedine bollettine degli anticipi ci sarà ancora lo sci perché c'è lo slano c'è il gigante femminile giovedì e libidine con brignone bassino sugli scudi ma anche le nostre ragazzine che potrebbero fare bene quindi c'è tanta tanta roba al fuoco detto questo vi saluto vi ringrazio perché sennò come al solito sono prolisso e ci vediamo alla prossima ciao